In questi giorni non si parla d'altro che della spigolatrice di Sapri. La statua è stata definita sessista, divenendo subito un caso sulla stampa internazionale. Ieri alle ore 17 presso l'ospedale civile di Agropoli è stata organizzata un'iniziativa provocatoria con l'unico obiettivo di dar voce ai veri problemi su cui dover realmente riflettere e far discutere. La giornalista Raffaella Giaccio, ideatrice e sostenitrice della riapertura dell'ospedale, ha affermato. Lo scatto realizzato dalla fotografa Ornella Foglia e i suoi collaboratori nasce da una provocazione che ho lanciato sui social dopo la tempesta mediatica sulla nuova statua della spigolatrice di Sapri e le sue forme evidenti. La foto è stata elaborata in post produzione dallo studio Ornella Foglia Fotografia, esasperando il colore in bianco e nero tanto da ricreare uno scatto di cronaca con lo sfondo del nostro tanto desiderato ospedale civile. La giornalista ha sottolineato non si è trattato di un corteo né di una manifestazione di protesta, ma bensì di uno scatto fotografico con una provocazione ben precisa. Mettere al centro dell'attenzione un bel fondoschiena e lasciarsi alle spalle invece un problema serio, atavico, che non dà risposte ai cittadini al comprensorio. L'ospedale civile di Agropoli. Non ambivo ad una folla di persone, ma a realizzare con la presenza di cittadini del posto questo scatto, e ci tengo a precisarlo. Raffaella ha aggiunto, io non mi stancherò mai finché avrò voce di andare avanti nelle mie possibilità e mettere sempre in risalto quello che non va riguardo la nostra sanità. Abbiamo tutti delle famiglie, dei figli, dei genitori e sapere che non c'è un presidio ospedaliero efficace ed efficiente che possa prestare soccorso a chi ne ha bisogno nel 2021 è terrificante. Il nostro scatto, conclude, vuole attirare soprattutto l'attenzione e provocare quanto più è possibile l'opinione pubblica su questo tema. E Alessandra Maffia, la spigolatrice di Agropoli, nello scatto provocatorio, la quale ha affermato, invece di soffermarvi sulle bellissime forme di una donna, pensate alle cose serie ed importanti, quali riaprire l'ospedale di Agropoli. Se questo servirà per dare voce all'argomento, ben venga. Condividete e smuovete il mondo pur di salvare le vite umane. La speranza è quella di smuovere qualcosa di positivo e di lottare tutti in modo da prevenire altre tragedie.